La Procura di Palermo ha chiuso l'indagine sui quattro presunti scafisti che nell'agosto scorso avrebbero condotto un barcone con 190 migranti, partito dalla Libia e diretto in Sicilia e soccorso dalla nave di Ciotti. La vicenda, per i ritardi nello sbarco dei 177 rimasti a bordo, ha portato alla richiesta di autorizzazione a procedere per Matteo Salvini, avanzata al Senato dalla Procura di Catania, su ordine del Tribunale dei Ministri di Catania. Per l'ipotesi di sequestro di persona attribuita al Ministro dell'Interno è competente infatti la magistratura catanese, perché lo sbarco dei migranti fu impedito per alcuni giorni nel porto di Catania. La Procura di Palermo si occupa della parte relativa al viaggio, partito dalle coste libiche il 16 agosto, entrata in acque italiane nell'area di Lampedusa, dunque in provincia di Agrigento. Gli indagati tutti in carcere sono gli egiziani Halmed Shalabi Farid, di 23 anni, Ashraf Abini Abraim, di 39, Algesira Mohammed Ezzet, di 24 e Shahalom Mohammed, di 26 anni. I pubblici ministeri, Geri Ferrara e Gaspare Spedale, contestano l'Associazione per Dilinquere finalizzata alla tratta degli esseri umani, alla violenza sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, con una serie di aggravanti, come aver fatto parte di un'organizzazione che teneva i migranti in campi di prigionie in Limpia, dove venivano sottoposti ad ogni sorta di abusi e festazione, che li ha fatti partire su una tanti fatiscenti dopo aver pagato ingenti somme di denaro. I quattro furono identificati grazie alle testimonianze delle persone tratte in salvo, per la stessa ragione per cui l'indagine sugli scafistera aperta dalla DDA di Palermo, come sulla competenza dei tribunali dei ministri, trasferita successivamente a Catania.